Il Centro Commerciale La Fattoria ha deciso di accogliere CAI Rovigo nei suoi spazi. Allora, buongiorno, il CAI di Rovigo è una delle associazioni più importanti della nostra città e per noi è un piacere e un onore averli qui ospiti al Centro Commerciale da lunedì fino a sabato. Li ospitiamo perché il CAI dà la possibilità a chiunque di poter vivere la montagna in maniera sicura e consapevole per cui io invio tutti quanti ad iscriversi al CAI di Rovigo perché si può in questa maniera poter andare in totale sicurezza a visitare posti veramente bellissimi. Io sono un iscritto al CAI e sono il primo ad andare in escursione con loro. E' veramente un'esperienza bellissima poter vedere la montagna da un punto di vista sicuro. Siamo con la presidente del CAI di Rovigo al Centro Commerciale La Fattoria perché in questi giorni è in corso un'esposizione appunto dedicata al CAI. Di che cosa si tratta? Si tratta di due mostre che abbiamo pensato per avvicinarci il più possibile alle persone. siamo una sezione di pianura e quindi a volte è difficile anche catturare l'attenzione e parlare di montagna. Effettivamente la montagna da noi è abbastanza lontana, però abbiamo voluto mettere in mostra queste due situazioni. Da una parte c'è la storia delle nostre montagne ferite e queste alle nostre spalle in cui ci racconta quello che è successo nel 2018 alla fine di ottobre che c'è stato questo evento climatico, questo evento così forte che ha creato appunto dei danni sulle nostre pendii, sulle nostre foreste. Dall'altra parte invece del cartellone c'è invece raffigurato cosa è rimasto dopo la fine della seconda guerra mondiale sulle nostre montagne. Quindi c'è questo parallelismo, questa similitudine tra questi due eventi. Uno creato logicamente dall'uomo e l'altro logicamente creato dagli eventi atmosferici che però diciamola che anche l'uomo qui ci ha messo lo zampino. Invece dall'altra parte ci sono questi 19 pannelli che parlano del fatto dal gruppo grandi carnivori del CAI questo ritorno silenzioso di questi animali che a volte ci possono mettere paura però è giusto pensare a un sodalizio tra uomo e questi animali. Oltre alla mostra CAI proporrà anche degli eventi aperti per la cittadinanza, ad esempio uno sarà appunto sabato. Di che cosa si tratta e a che ora sarà? Allora sabato sarà un pomeriggio dedicato praticamente interamente ai bambini perché ci sarà Dennis Perilli che insieme a Simona Dusso hanno praticamente scritto un libro La montagna raccontata ai bambini e non solo, aggiungo io perché comunque è un testo molto discorsivo e facile che può essere importante anche per gli adulti. Infine poi ci sarà, abbiamo invitato Merino che è un cantastorie della Val di Zoldo che verrà appunto a intrattenere i bambini con delle favole e con delle leggende che appartengono alla montagna.